La riscoperta di una ricetta che in genere veniva fatta la domenica, non tutte le domeniche perché era costosa, perché in genere era fatta col coniglio, quindi veniva cucinato il coniglio, in particolare è fatto il sugo, poi quel coniglio avanzava, in pratica veniva umido, come si vuol dire, coniglio umido, e venivano, per la tradizione appoggiamoci, ecco, questa ricetta. Poi le parti sudici, ora dice, ma non si, sudici perché in pratica dalle parti bianche, prendere il colore rosso, è chiaro, sudici alle parti, con il sugo, il detto alla foggipontese delle parti sudici. La tradizione nasce dalla presenza di molti allevamenti di conigli, soprattutto in campagna, anche dentro delle buche che venivano da, e le parti sudici sono di due tipi, sia questo sul coniglio, ma anche sull'anana, cioè l'anatra, che erano un po' più difficili, perché costavano di più, era più difficile trovare.